Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare la moneta d'oro della settimana 5 di Fortnite per la stagione 4. La moneta si trova qui, nella parte alta del dominio di Doom, qui dove ho messo il punto di riferimento, all'interno del furgone che trasporta i mutanti. Tra l'altro qui farete anche la sfida di Wolverine della settimana, che vi richiede di atterrare qui dove c'è il furgone. La moneta d'oro praticamente è all'interno del furgone, quindi non potete assolutamente sbagliarvi. Adesso nel video ovviamente non è presente, ma dalle 3 di oggi pomeriggio la troverete ad attendervi all'interno del furgone. Quindi la posizione è questa, in alto, non potete sbagliarvi. Qui c'è un solo furgone per il trasporto dei mutanti e la moneta praticamente è qui dentro. Quindi andate qui e la prendete. Grazie. 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 Grazie.